Come Ugo cosa vogliamo proporre ai promotori di questo progetto? A Novartis vogliamo proporre di lavorare a quattro mani per l'analisi delle esigenze del paziente. Fino ad oggi noi seguiamo già pazienti con il servizio di accompagnamento, ma vorremmo capire in che modo espanderci. Alcuni esempi sono consegna di farmaco oncologico a domicilio piuttosto che somministrazione a domicilio o emocromo a domicilio. Per capire in che direzione muoverci abbiamo bisogno di voi. A DBM cosa chiediamo? Noi stiamo trasformando la nostra piattaforma per renderla davvero solida e soprattutto per permetterci di internazionalizzarla. Abbiamo bisogno quindi di nuovi sistemi di storage e poi abbiamo apprezzato moltissimo il vostro progetto di Watson che vorremmo sposare quanto prima. A Cariplo Factory e in realtà anche a Novartis e a IBM vorremmo costruire insieme delle progettualità, delle progettualità solidali a favore dei più fragili. Abbiamo già dell'esperienza in questo, sappiamo che con la forza comunicativa di realtà come le vostre e la possibilità di accedere ai mercati di persone fragili possiamo davvero mettere a disposizione gratuitamente un servizio di accompagnamento come Ugo, non solo per visite terapie ma anche per un'inclusione sociale maggiore.